Dimmi tu eh Quando vuoi Nome scusa hai detto? Scotti Michele Michele Scotti per la selezione urbana Mediolanum Oggi un pareggio in extremis, una partenza non eccezionale Avevate fatica soprattutto a concretizzare davanti all'erida Poi però siete riusciti ad uscire anche grazie all'espulsione degli avversari Due a due, raccontaci il match dal tuo punto di vista È mancata come sempre purtroppo la voglia di vincere, di fare bene Questo non toglie che abbiamo trovato di fronte a una squadra Che ci ha messo lo spirito, la fantasia E la buona voglia per far sì che la partita sia stata piacevole Il prossimo incontro sarà contro la Lazio Una squadra storica di questa Lega ma che quest'anno non sta facendo un ottimo campionato Comunque un avvenzario da non sottovalutare Voi che partita vi aspettate e come vi approccerete al match? Purtroppo non conosco gli avversari Lo trovo un limite diciamo Perché appunto quando non si conosce qualcuno è sempre più difficile affrontarlo Tu rientri da un infortunio Oggi hai giocato, non è stata la miglia delle prestazioni Ma comunque hai dato il tuo contributo Come ti ritrovi a ritornare in campo? Se sei al massimo, insomma raccontaci un po' come stai Penso di giocare ancora al 20-30% Mi sento, non sto così bene L'obiettivo è vincere il più possibile le partite Divertirmi con i miei compagni e rimettermi in salute Che periodi di guarigione avranno questa situazione? Spero di stare bene almeno per il prossimo mese Ultima domanda Aspetta, chi giocate in Coppa Italia la prossima? Prossimo incontro di Coppa Italia Una partita importante La Coppa, insomma Quanto puntate su questa competizione? Lo stesso discorso per il campionato Più si vince e più siamo contenti tutti Grazie mille a Michele Scotti Grazie